Voglio precisare che l'Ordio dei Dottori Commercialisti ha organizzato un'autonoma struttura interna dotata di indipendenza per poter gestire tre elementi che sono oggi molto importanti, quali il riconoscimento, quello del Ministero della Giustizia, per l'organismo di gestione della crisi da sovraindibitamento, una norma detta salva suicidi, cioè quella che consente di salvare le persone meritevoli che però abbiano contratto un numero di debiti sproporzionato rispetto alle loro capacità, si possono quindi tagliare qualunque tipo di debito, anche con l'Agenzia delle Entrate, con lo Stato, qualunque tipo, senza limiti di percentuale, quindi paradossalmente anche del 90%, e contestualmente procrastinare la possibilità di rientro di questo debito. Nel momento in cui viene presentata questa istanza qui, noi facciamo predisporre questo piano, dal momento in cui c'è l'omologa del giudice, che è soltanto, diciamo così, una fase finale, terminale, e da quel momento si bloccano tutti quanti le possibilità di agire da parte dei creditori. Questa cosa consente quindi di poter salvaguardare le persone, perché è impossibile poter ottenere tutto da qualcuno che non può, e anche salvaguardare quel poco che c'è, diciamo quel tesoretto che può avere l'indebitato, e può essere equamente distribuito tra i creditori, anziché essere macinato con i tempi e con i costi della giustizia. E questa è la prima autorizzazione che come organismo abbiamo avuto dal Ministro della Giustizia. Il secondo è quello della mediazione civile, non meno importante del primo, anzi di più, perché è uno dei capisaldi che può risolvere le questioni della giustizia in Italia, perché è una direttiva comunitaria, e consente di poter fare una fotografia immediata, quando le parti si incontrano velocemente, nell'arco di poche settimane, massimo tre mesi, si incontrano proprio qui presso la sede e possono rincontrare l'altra parte. Qualora ciò non avvenga, che una parte scappa, diciamo così, è possibile fare una fotografia, nel senso di fare una perizia, una CTU, il mediatore può fare la proposta, tutto confluisce nel verbale finale, questo l'abbiamo previsto nel nostro regolamento, per cui subito dopo andrà in mano al giudice tutta questa situazione, in maniera tale che il giudice possa, come dice la norma, valuta il comportamento delle parti tenute in mediazione. Quindi chi, diciamo, pretestuosamente scappa, in qualche modo, fra dieci anni la causa comincia e durerà, la sentenza arriverà fra dieci anni, quindici, quello che sia, però con la fotografia iniziale, chi è che ha torto, ne pagherà tutto quello che è successo nel frattempo, cosa che fino ad oggi questa opportunità non è stata mai colta. Terza ed ultima, l'autorità garante per le comunicazioni, che abbiamo la sede in Italia, ce l'abbiamo a Napoli, ci darà adesso stasera uno scoop di quelle che sono le opportunità per la tutela dei consumatori, quindi molto a favore del consumatore con le alternative alla giustizia ordinaria, quindi sono tutte quante organizzazioni, quindi anche opportunità professionali, ma che salvaguardano l'interesse del cittadino. E infine tutto questo mondo ADR cosiddetto è stato sposato dalla Regione Campania, in particolare dall'assessore Chiara Marciano, che lungimirante ha pensato in qualche modo, e ci darà il come, di poter sostenere questo tipo di iniziative.